È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. E ora alcune notizie che riguardano la Serie A dentro e fuori dal campo. Le vacanze sono finite, molti calciatori sono tornati dalle Maldive, accompagnati dalla loro dolce metà. L'Atalanta splende anche ai tropici grazie al Papu Gomez e ad Andrea Petagna. Dalle Maldive a Dubai prima di ritornare a Milano. Questo il tour postatissimo della coppia più social della Serie A, Mauro Riccardi e Vanna Nara. E chissà se nel deserto hanno incontrato la stella del Bologna Simone Verdi o il difensore della Lazio, Stefan De Frey. Finito il relax, si torna a sudare, come ha postato il difensore giapponese dell'Inter, Yuto Nagatomo, con un allenamento speciale per aumentare la capacità di coordinazione del corpo. In casa nera azzurra, cambia faccia uno dei volti più rappresentativi del campionato. Addio barba per Borca Valero. Vedremo se la scelta porterà anche fortuna. Nuovo look anche per Paolo Di Bala. Almeno per una notte la Hoya si è dato alla moda, di smoking e per Dolce Gabbana. Il suo compagno Gonzalo Higuain ha curato meno il dress code, ma ha fatto vedere il suo talento anche nella sfida con gli amici a colpire la traversa da centrocampo. Mentre tutti erano in vacanza, è arrivato il nuovo album delle figurine della Serie A 2017-2018, una tradizione del calcio italiano, per collezionisti forse, ma che continua anche nell'era dei social. Ed è tutto per Around the League.